ciao a tutte allora in tantissime ultimamente mi avete chiesto ma perché nei tuoi video non ti mostri perché in tutto sommato non sai proprio da buttare via voi siete state più gentili con i vostri complimenti e mi avete detto beh ma dai sei una bella ragazza sei una bella donna mostrati fatti vedere vogliamo vederti allora io capisco perfettamente questa esigenza perché immagino che ci sia la curiosità di vedere chi sta dietro ai video che voi guardate perché di solito non mi faccio vedere allora voi adesso mi vedete abbastanza sistemata insomma dai capelli decenti truccata o anche le unghie brasilere fatte da poco sono presentabile spesso quando io giro i video che ricavo da ritagli di tempo durante la mia giornata non sono così tanto presentabile nel senso che spesso e volentieri voi non lo sapete ma adesso vi svelo il dietro le quinte magari ho i bigodini in testa sono completamente struccata o la tutona non in questo periodo ovviamente perché fa un caldo becco ma ho la tutona in pile da casa quindi non sono esattamente un bello spettacolo però giro i video ugualmente perché quello è lo spazio che ho a disposizione durante la giornata quindi visto che io faccio vedere solo le mie mani e i prodotti di cui vi parlo anche tutto sommato chi se ne frega no se sono poco presentabile il secondo motivo per cui di solito non mi faccio vedere è che come probabilmente avrete notato se avete visto i video in cui sono da questa parte della videocamera io mi intrigo tantissimo perché ho qui dove ho chi dito ovviamente la parte che riprende chiaramente di fianco come probabilmente saprete c'è lo sportellino che si è girato dall'anteprima di quello che si sta registrando giusto? questa cosa a me intriga da matti perché se io devo farvi vedere un prodotto ci metto mezz'ora a capire dove cacchio devo metterlo per inquadrarlo giusto e questo anche a me rivedendo i video da un po' fastidio sinceramente non è che mi piaccia tantissimo come cosa e mi rendo conto che mi intrigo e allora facciamo così se a voi fa piacere vedermi in faccia e io riesco a prendere un po' di confidenza con questo strumento che per me è tutto sommato ancora abbastanza nuovo perché la videocamera ce l'ho relativamente da poco tempo e prima facevo i video con una semplice fotocamera che non aveva questa cosa dello sportellino che si apre che fa vedere l'anteprima quindi se a voi piace vedermi in video e se io riesco a trovare dei momenti in cui sono presentabile e in cui riesco a capire senza perdere troppo tempo dove devo inquadrare le cose che vi faccio vedere allora può essere che in altri video voi mi vediate però portate pazienza perché non vi garantisco nulla tra l'altro se vedete l'ambientazione di questo video probabilmente lo sentite anche da un certo rimbombo è il bagno perché questo è il mio regno tra virgolette perché ho la videocamera appoggiata sulla mia console da trucco come vedete ecco appunto come vedete qui qui ecco alle mie spalle c'è una delle tre vetrinette porta smalti per cui qui ci sono tutti i miei prodotti tutti i miei trucchi tutti i miei smalti quindi sarei anche comoda nel caso mi dimenticassi qualcosa scompaio un attimo lo piglio insomma potrebbe sicuramente essere una location diciamo comoda per i miei video ecco detto questo che era questo era semplicemente un video così chiacchiericcio anche per sapere così le vostre opinioni insomma rispetto a questa cosa e per dirvi ok sicuramente mi fa piacere la vostra richiesta vediamo di organizzarci insomma farò il possibile non garantisco nulla come vi ho detto prima e comunque per il momento vi saluto aspetto i vostri commenti e le vostre opinioni e basta e noi ci vediamo al prossimo video ciao